Paola Turani, brufoli sulla fronte, colpa delle reni e di gestione, le risposte dei fan. Paola Turani, influencer bergamasca e modella, nelle sue ultime Instagram Stories ha esposto una sua preoccupazione, i brufoli sotto pelle sulla fronte. Perché sì, non sono solo gli adolescenti a dover combattere con i brufoli e bollicine. Infatti, Paola Turani ha esplicitamente affermato, ne sono usciti alcuni brufoli sotto pelle in fronte. Ho letto che quando escono in fronte dovrebbe essere qualcosa legato al fegato malfunzionante. Naturalmente non si tratta di una regola universale per chi la tipologia di pelle. Lo stile di vita e la dieta sono tutti fattori da tenere in considerazione. A questo proposito è importante chiedere il parere dell'esperto. Poi, la Turani ha aggiunto, ho letto che quando i brufoli escono nella parte inferiore del mento dovrebbe essere qualcosa legato agli ormoni. Confermate, ha chiesto la Turani ai suoi fan. Una fan, ha poi risposto alle sue Instagram stories ritenendo che i brufoli sulla fronte corrispondano e la digestione. Grafferul din tot, o toți MC-ul care am crescut, pe scurt, de la un pui salbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic da vestu. Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, parasiții, dragonul maxi gespe. Chimie, rimaru, spike, puia, si, swap-o, grasul nimeni altu, delvede sau carpo. Tre' să vă mănânci vers cu vers card intens, tre' să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. De zici că mă bar cu boss-ul, la câte urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul? Metafore, iperbole, ne obțim prin alchimie, când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius, să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.